Preparati a un'esplosione di emozioni in Endless Love. Sta per emergere una verità devastante che sconvolgerà ogni certezza. Kemal è a un passo dal fare una scoperta che cambierà per sempre la sua vita e quella di chi Gaai sta intorno. Un segreto oscuro, nascosto troppo a lungo, è pronto a venire alla luce e le conseguenze saranno assolutamente disastrose. Vuoi scoprire cosa si cela dietro questo intrigo? Tieniti forte, perché quello che sta per succedere ti lascerà senza parole. Nella puntata di giovedì, Ayan riceve un documento relativo a una presunta vendita conclusa con la Kodskoglu Holding. Con l'aiuto di Kemal, si rende velocemente conto di essere finito in una trappola tesa da Emir per danneggiare allo stesso tempo lui e Leila. Intanto, Kemal organizza il complesso piano per fare irruzione in casa di Emir prima che Nyan parta per il suo viaggio con Deniz. Per farlo, si serve dell'aiuto di Zehir. L'uomo mette alla prova Zera che, ascoltando una sua telefonata, allerterà Emir e lo farà correre in azienda credendo che Zehir voglia rubare un documento dal suo ufficio. Il complesso piano architettato da Kemal permetterà a Zehir di rendersi conto che Zera collabora con Emir alle sue spalle. Zehir la abbandona accusandola di essere stata la causa della morte del loro figlio. Kemal è riuscito intanto a introdursi in casa di Emir e a salutare Nyan. Allo stesso tempo ha prelevato di nascosto un capello di Deniz da sottoporre all'esame del DNA. Nyan si è allontanata in una località segreta portando con sé sua figlia. Nessuno sa dove si trovi, escluso Emir che, stufo della lontananza forzata, decide di raggiungere la moglie e la bambina. Nel frattempo, Kemal scopre senza alcun dubbio di essere il vero padre di Deniz. Frustrato per il tempo ormai perso, decide di non far passare un secondo di più e fa il possibile per scoprire dove si trovino Nyan e la bambina. Prima di continuare, se vorresti ricevere in anteprima nuovi video di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo. Nel frattempo, Kemal scopre senza alcun dubbio di essere il vero padre di Deniz. Frustrato per il tempo ormai perso, decide di non far passare un secondo di più e fa il possibile per scoprire dove si trovino Nyan e la bambina. Quando le prime ricerche vanno a vuoto, Jli viene in mente un'idea, ma avrà bisogno dell'aiuto di Aihan. Leila viene informata dei fatti ed è molto preoccupata di ciò che Emir potrebbe fare a Nyan e alla bambina se vedesse Kemal, ma soffre anche perché, a seguito delle accuse ricevute, è costretta a stare lontana da Aihan. Vildan ha scoperto delle cose sul passato dell'ex Galeotto che coinvolgono direttamente la sua famiglia e cerca di mettere in guardia la sorella, che però le svela altri dettagli della storia. Assu, insieme a suo marito Kemal, è diventata la principale azionista della Cotsquoglu Holding e chiede di avere un suo ufficio. Gallip le mostra quello che è sempre stato il suo e le dice che a lui ormai non serve più, visto che non detiene più le quote della società di famiglia. Assu è da un po' che prova a chiamare Kemal senza ottenere risposta. Convinta di trovarlo lì, Assu va al ristorante indicato a Leda Tufan, ma Kemal ha annullato l'incontro poco prima. Gallip, ormai disoccupato, va a trovare la madre di Assu, in coma da anni, assistita anche da Eda. Kemal legge il diario di Nihansu Deniz e si commuove, immaginando le situazioni che ha perduto non sapendo nulla di quanto accadeva. Poi rientra in casa e fuori di sé dalla rabbia. È intenzionato a portare via Deniz per toglierla definitivamente a Emir. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti.